L'aspetto importante dal mio punto di vista e anche come valutazione per i colleghi che c'erano è che il Presidente del gruppo del PD ha affermato che l'articolo 67 della Costituzione vale sempre in ogni sede, commissione o aula, quindi l'autonomia e la responsabilità del parlamentare senza vincolo di mandato è un punto fermo, è un punto acquisito. Questo per noi è molto importante perché l'autosospensione era su questo che si era motivata non su valutazioni diverse rispetto alla proposta di legge costituzionale che pure questo scema è altra cosa. Il secondo elemento, il secondo aspetto importante è che da parte non solo del Presidente del gruppo ma della Presidenza del gruppo nel suo insieme è venuto un attestato di stima nei confronti di ognuno dei parlamentari e questo non è un fatto formale, è venuto anche un riconoscimento che il disegno di legge che avevamo presentato ha dato un contributo, è un elemento di pluralismo che dà un contributo alla riflessione. Da questo consegue che dunque non era palude non siamo palude, non siamo sabotatori, non siamo ostacolo per la riforma. Grazie. Grazie.